Chi in queste ore sta alimentando voci infondate sul servizio integrato dei rifiuti si qualifica come un artigiano di fandoni ad uso politico. Non ci sta l'assessore comunale all'ambiente, Simone Siciliano, che controbatte ad alcune illazioni sul settore di sua competenza. Le inesattezze costruite ad arte, ha continuato il vice sindaco, partono dal confondere il capitolo servizi con il capitolo canone. I servizi assimilati alla gestione dei rifiuti possono essere liquidati proprio perché è escluso il secondo. Sulle affermazioni relative all'ipotetica continuità amministrativa nello svolgimento dei servizi aggiuntivi per mantenere un adeguato livello di decoro della città, rimarco che gli stessi sono stati attivati subito dopo l'affidamento dell'appalto già dall'amministrazione che ci ha preceduto nel 2015 e per i quali in settore arrivano regolarmente ogni mese le relative fatture per il servizio svolto di riassetto del territorio, indispensabile per colmare la grave abitudine di molti cittadini indisciplinati di conferire fuori dagli orari e dai giorni del calendario per la raccolta differenziata il cui costo nell'anno di gestione messinese è stato ridotto, riducendo al minimo il numero di interventi, pur tutelando quella fascia di lavoratori che nel passaggio di cantiere aveva perso il posto di lavoro. La macchina della bugia, dice il siciliano, si nutre inoltre delle proroghe concesse alla Tecra. La verità non detta è che quelle proroghe sono state volute dalla maggioranza dell'assemblea dei sindaci della SRR4 e solo perché ancora la regione non ha approvato i piani d'ambito, la stessa società non può espletare una nuova gara. I fustigatori dell'ultima ora, ergendosi al ruolo di alti statisti che non parlano onestamente ai cittadini, ora farebbero meglio a sottolineare che i servizi aggiuntivi sono stati dimezzati per volontà di questa amministrazione comunale rispetto all'anno precedente e che solo grazie all'istituzione di un direttore per l'esecuzione del contratto che controlla il servizio, l'emergenza di fiuti che dilaga in questi giorni in tutti i comuni siciliani non ha avuto finora lo stesso impatto registrato con il mio precessore nell'emergenza dell'estate 2015. Ne si puntualizza il lavoro fatto per l'istituzione dell'Aro proprio nell'ottica di gestire un servizio di raccolta rifiuti ritagliato sulle necessità del territorio gelese o ancora gli sforzi negoziali con la regione per la dotazione impiantistica che permetterebbe di avere a Gera nel prossimo futuro degli impianti di trasformazione dei rifiuti a emissioni zero per la produzione di biocarburanti e dunque poter chiudere il ciclo dei rifiuti zero in discarica. Infine, andrebbe dato merito alla redazione del regolamento per il servizio di raccolta differenziata. Evidentemente, chiude Siciliano, l'obiettivo principale dei miei detrattori è delegittimare l'attuale amministrazione comunale prescindendo dagli sforzi messi in campo nell'anno trascorso.